buon pomeriggio iniziamo la proiezione quindi diamo tempo di prendere posto per quest'ultimo film fuori concorso abbiamo un ospite come dire che gioca quasi in casa non non del tutto perché appunto non sei proprio torinese al cento per cento ad ogni modo andrea caccia il film è tutto loro che c'è insomma un applauso così per tutta la presentazione ormai abbiamo così lasciato mollato gli ormeggi siamo a fine festival dopo pranzo allora no a parte gli scherzi questo è un film che tenevamo molto a proiettare qui al festival è un film che è fuori concorso per il semplice motivo che ha avuto una sua come dire prima rotterdam a gennaio quindi passato nel frattempo tanto tempo e però appunto ci tenevamo ad averti qua e ti ringraziamo per esserci come al solito una breve un breve saluto una breve presentazione anche perché appunto ci teniamo del tempo per il quale si va beh allora come prima cosa ringrazio il festival per avere comunque atteso così tanto perché poi io sono davvero felice di essere a torino e perché appunto come dice mazzino non è casa però il fiume ticino di cui poi insomma il film è una sorta di mia visione di quel luogo è proprio un fiume che io dico sempre collega il piemonte alla lombardia non le divide e questo progetto è un progetto che ha richiesto molto tempo per essere costruito ed è un progetto che deve comunque ringraziare lo fa anche nei titoli sia il piemonte che la lombardia e quindi sia torino che milano che hanno presentato il film questa settimana per cui davvero sono molto felice di questa cosa perché è davvero un po come una casa che si allargano come una casa di quelle galleggianti sul fiume che si che si muove e sarò brevissimo perché se poi comincio ad aprire le mie parentesi finisco ringraziando oltre che il festival per aver deciso di attendere così tanto tempo e dimostrare oggi e anche già la settimana scorsa il film decido diciamo ringrazio delle persone che sono qua in sala e che in qualche modo sono state a loro modo cioè loro sono stati quelli che hanno reso possibile il film sono mio figlio filippo da cui l'idea del film è nata che è lassù sono marco alessi che ha creduto quando io gli ho portato un video proprio di filippo che giocava nell'acqua in questo film e che l'ha prodotto che lì e sono e poi insomma l'ultima figura importante in sala oggi è massimo schiavone che mi ha seguito in tutta questa che il direttore della fotografia e che mi ha seguito in tutti questi anni accompagnandomi a fare lunghissimi sopralluoghi provare macchine da presa guardare sfumature di verdi che erano diversa tra una macchina e l'altra ed è stato con me anche al mio fianco quando poi il film l'abbiamo davvero realizzato ed è stato determinante perché come vedrete è un film che a me piace dire molto semplice dal punto di vista visivo che si fonda su su proprio su una questione che credo sia centrale che è quella dell'osservazione e quindi direi buona osservazione grazie a tutti grazie a tutti